E adesso parliamo di un altro servizio. Parliamo della lista civica Città dell'Emene con Graziano Padovese. Sono comparsi dei manifesti sul gusto a Portogruaro della vostra lista civica, un po' particolari, però mancano ancora dieci giorni forse per decidere un po' il tutto. Sì, ha fatto bene ricordare sia della presenza dei nostri manifesti che significano che noi siamo ancora in campo per questa tornata elettorale e confermo, come giustamente ha ricordato, che sono ancora un po' di giorni avanti a noi per le decisioni, le strette finali, delle varie alleanze, collaborazioni e quant'altro legate alla situazione politica. Ecco, una cosa è praticamente certa. Lei non farà il candidato sindaco stavolta? Ma questo mai dire mai, non sono sicuro neanche adesso. Dipende se corriamo da soli, se corriamo con altre liste e se corriamo eventualmente in coalizione. Mai dire mai. Se corriamo da soli deciderà la lista come ha fatto l'altra volta. Se corriamo con altre liste decideriamo tutti assieme la figura migliore e se siamo in coalizione è chiaro che ci sono già le due liste già coalizzate, centro-sinistra e centro-destra, hanno già i propri candidati, quindi valuteremo in questo caso se ci sarà il programma che è elemento fondamentale. Rispetto all'anno scorso però siete meno convinti di correre da soli? No, abbiamo fatto un'esperienza, era l'unico che aveva un'esperienza politica dalla nostra lista civica, abbiamo fatto un'esperienza, la gente è molto ma molto stimolata a ripercorrere la campagna elettorale come prima, abbiamo rinnovato alcuni elementi e siamo convinti dell'operazione perché abbiamo dimostrato che per fortuna o per sfortuna per altri che quel nostro 3% comunque abbiamo determinato uno scossone non di poco conto a Portoguaro.